Buongiorno a tutti, benvenuti. La giornata di oggi è una giornata di tipo di taglio prevalentemente operativo, quindi è una specie di seminario che avevamo promesso di farlo anche possibilmente prima delle ferie ma non c'è stata la possibilità, è slittato ad oggi, però è una questione più ad uso interno operativa per il nostro mondo della formazione, però è anche l'occasione per ritrovarci con i rappresentanti delle parti sociali e con i rappresentanti del Ministero perché sappiamo dal questionario che abbiamo fatto ma anche dalle interlocuzioni continue che ci sono col sistema territoriale che esistono comunque qualche dubbio, qualche incertezza, qualche problema non ben chiarito e quindi l'occasione di vederci anche con una certa cadenza è dovuto alla necessità di sgombrare le incertezze e i dubbi e cercare di procedere tutti possibilmente nella stessa maniera. Noi sappiamo che oggi parliamo di 16 ore mix ma questo è una costola, è un pezzo di quel progetto di riconversione del sistema formativo che abbiamo intrapreso qualche anno fa e che appoggiato sulla nuove linee contrattuali nazionali comunque marcia anche attraverso la realizzazione di progetti specifici e di supporti e di sostegni e di strumenti che vengono messi a disposizione a tutti in ugual misura per fare in modo che ci siano quei requisiti di omogeneità sul territorio, di quel fare sistema unico che deve essere caratterizzante. Ci dobbiamo rendere conto nell'interpretare queste cose come spesso succede in maniera autonoma, cioè ognuno ha un suo modo di interpretare le cose, questo è altamente sconsigliabile, diciamo la filosofia di questo progetto complesso è quello che invece ci sia un unico sistema di approccio, quindi il fatto di mettere a disposizione con metodi costosi gli strumenti per realizzare i progetti serve a dare omogeneità sul territorio che è la cosa più importante che c'è. Ognuno di noi si deve rendere conto che trovando delle scorciatoie più o meno lecite, più o meno opportune, inficia l'attività anche di chi fa bene, cioè rende meno efficiente, meno efficace verso l'esterno anche l'attività di chi fa bene, rende meno credibile il sistema. Io so che tutti voi siete animati comunque da sentimenti positivi e quindi state cercando pur nelle difficoltà economiche in cui questo settore si dibatte in tutto il paese, dove più e dove meno, ma comunque forti difficoltà economiche, che si riverberano anche sull'attività degli enti bilaterali, tuttavia diciamo state cercando di mantenere la barra del timone a dritta. Vi invito fortemente a fare così, a perseverare in questo atteggiamento mentale, è importante per ognuno di voi ma soprattutto è importante per l'intero nostro sistema. Il nostro progetto di riconversione è arrivato a un punto diciamo abbastanza avanzato nel senso che il primo progetto da mandare è costituito sostanzialmente da progetti e strumenti, il repertorio delle competenze, il libretto e il registro dell'impresa formativa sono ormai acquisiti alla nostra disponibilità, quindi sono uno strumento importante sul quale riposa la classificazione e la rendicontazione delle nostre attività. La borsa lavoro è un altro strumento che peraltro è di per sé comunque un progetto importante, stiamo cercando di attuarla, abbiamo dato il via alla sperimentazione, si sono i primi risultati, sta andando molto lentamente perché gli accordi con la politica locale, con le regioni, con le province sembrano molto più macchinosi di quello che prevedevamo, noi pensavamo che magari ci fosse qualche resistenza ma in generale avrebbero avuto un via libera rapida, invece constatiamo che anche in regioni molto aperte al mondo della formazione, insomma ci sono forti ritardi, nessuno ce li nega però nessuno ce li dà con facilità questi strumenti operativi e questo naturalmente crea qualche problema. Le 16 ore mix sono ormai una realtà da molto tempo, le 16 ore addirittura siamo dopo i due anni di sperimentazione siamo in piena attività, credo che si possano far vedere delle diapositive con i numeri che abbiamo che sono abbastanza importanti, è un progetto unico anche con mix quindi con i moduli integrati per costruire in sicurezza che ripeto non sono corsi per la sicurezza, questo non c'è ancora entrato in testa a tutti ma questa storia della nomenclatura deve essere chiara, qui nessuno fa corsi per la sicurezza, facciamo corsi di formazione professionale per riuscire a lavorare un po' più sicuri di prima, un po' più sicuri, noi ci accontenteremo di fare un po' più, noi cerchiamo in tutti i modi e questo lo voglio esprimere anche a rappresentanti del Ministero, l'approccio normativistico almeno nel nostro settore non funziona, non è che noi possiamo chiamare muratori e bombardarli di che la legge 494, che la legge 529, che quella del 55 eccetera, non se ne cava nulla, l'unica cosa che possiamo fare è realmente spiegare come certe operazioni delicate sia quelle elementari che sono riferibili alle 16 ore, sia quelle più avanzate, più evolute come quelle dei conducenti delle macchine complesse eccetera, devono essere fatti nella giusta maniera, quindi come fare operazioni che magari loro già conoscono, però come fare nella maniera più sicura, perché chi sa come fare comunque difende se stesso, i propri colleghi di lavoro e quindi attua un reale provvedimento che ha conseguenze di miglioramento, incremento della sicurezza e decremento della vulnerabilità. I numeri che abbiamo qua davanti sostanzialmente sono per il totale delle 16 ore mix apportato in questi 2009, 2010, 2011 un totale di 13.000 corsi con 43.000 imprese coinvolte e 53.000 lavoratori formati. Questo è un po' il totale. Se vogliamo dire la cosa che è partita più di recente, quindi le abilitazioni delle macchine, per il sollevamento abbiamo avuto 639 corsi con 9.000 ore di formazione e circa 6.000 lavoratori formati, per le macchine in movimento terra 3.400 allievi formati in appena un anno di lavoro. Abbiamo cominciato di recente anche i dirigenti e preposti e abbiamo i relativi numeri, 249 dirigenti e 2.079 preposti, quindi sono numeri sicuramente interessanti, sicuramente importanti che ci fanno intanto essere soddisfatti per quello che si fa. Però il calo che vediamo in alcune attività formative non è giustificato dalla crisi, perché è vero che ci sono stati abbassamenti dei forti decrementi del personale dipendente eccetera con questa crisi, ma è anche vero che c'è un fortissimo turnover. Abbiamo la sensazione che i risultati che otteniamo a macchia del leopardo in maniera disuniforme, nei posti in cui c'è pochissimo arrivo di nuovi ingressi, è che non funziona la comunicazione, non funziona il raccordo con le imprese, non funziona il raccordo con i consulenti del lavoro. Quindi le province in cui ci sono questi forti cali non devono tranquillizzarsi e spiegarsi sommariamente che le cose vanno così perché c'è la crisi, perché non è così. In più del 50% delle province italiane, pur avendo osservato un forte calo dell'attività, un forte calo dei versamenti nel sistema cassedile e un forte calo dei dipendenti, comunque c'è una forte attività per esempio sulle 16 ore, una forte richiesta di patentini, vuol dire che lì l'attività si fa meglio, c'è un miglior collegamento con i consulenti del lavoro, c'è una miglior trazione con le imprese. Su questo punto vorrei dire una parola brevissima, cioè c'è bisogno che le imprese si facciano sentire, che le parti sociali, anche quelle sindacali dei lavori si facciano sentire, svolgendo in pieno la loro funzione di committenza, che non sempre svolgono. Invece c'è bisogno che l'ente bilaterale sia tirato un po' per le redini, in maniera corretta, per richiedere assistenza e prestazioni, soprattutto in un momento così difficile. I lavoratori e le imprese hanno diritto a essere supportati. Poi che molti di voi applichino dei prezzi all'attività formativa, diciamo che questo non va bene in generale, è una cosa sbagliata, cioè noi dobbiamo capire che le imprese e i lavoratori versano in anticipo i loro contributi agli enti bilaterali, quindi hanno diritto a una prestazione, non dovete prendere per acquisiti questi versamenti per servirvene per mantenere l'apparato. Questi versamenti servono in massima parte, è chiaro che devono servire anche per mantenere l'apparato, ma soprattutto finalizzati la loro aliquota maggiore a svolgere un'attività di servizio. In questo senso credo che le parti sociali hanno il dovere di richiamare le scuole a una più attenta gestione di questi fondi che arrivano e una più oculata e una più, diciamo, maggiore disponibilità a versare in termini di servizio quanto gli viene reso in termini economici. È chiaro che questo implica una forte volontà delle parti sociali, non sempre questa c'è, si occupiamo di tante cose, spesso non si arriva a essere così efficaci e così presenti, però la situazione del momento del nostro settore richiede assolutamente che questa funzione di committenza venga svolta. Adesso vorrei un contributo della parte datoriale da parte dell'amico Gabriele Buia, che è il nostro referente per l'ANCE, il vicepresidente di linea della RIAS, perché spero che questa funzione di committenza, l'ANCE e anche le parti datoriali riescono a svolgerla al meglio.